C'è un convegno molto interessante dove teniamo tutti gli operatori, a partire dall'Enel che sulla parte verde, green, fa importanti investimenti. Noi siamo al passo come regione leader, le regioni mediterranei lo sono, leader nell'energia alternativa, l'energia rinnovabile, quindi l'energia verde, con una serie di bandi per i comuni, per nuove tecnologie, e quindi stiamo investendo moltissimo e siamo ai vertici nazionali ed europei in quanto utilizzo di energie rinnovabili. Le energie rinnovabili sono risparmio, sono ambiente e sono posti di lavoro, quindi è un grande investimento e sono investimenti che continuiamo a fare con grande forza. Noi lavoriamo con l'Enel perché è evidente che noi abbiamo bisogno, soprattutto sulle nuove tecnologie, lo faremo sempre di più, non solo sulla parte più di realizzazione, di impiantistica, sull'energia verde ma anche quello che dovremmo fare sul potenziamento e la gestione delle reti, che le due cose devono andare assolutamente insieme, quindi in questo l'Enel è un partner per noi fondamentale. Il nostro obiettivo è che abbiamo finanziato l'efficientamento energetico dei comuni, vale la pena ricordare che abbiamo già stanziato 100 milioni di euro e l'aggiunta della settimana scorsa le ha messi altri 100, quindi se pensiamo che l'efficientamento energetico, la bolletta nei comuni, la quarta voce di bilancio, ci rendiamo conto che i comuni nelle prossime settimane, nei prossimi mesi risparmieranno e potranno erogare i servizi diversi ai cittadini. Accanto a questo vale la pena ricordare che invece è pubblicato il bando per l'efficientamento energetico delle aree industriali e delle altre ospedali. Stiamo cercando di risparmiare attraverso la green economy in modo che evitiamo di comprare energia dalle altre regioni, perché questa è l'assurdità, la regione del sole compra energia dalle altre regioni, questo non deve più accadere.